...analogico-analogico-digitale, attraverso l'uso di un controller che è completamente assegnabile, ho clonato in maniera digitale esattamente ciò che faccio sul mio mixer analogico. E quindi questo mio controller corrisponde più o meno ai controlli che io uso sul banco, chiaramente in piccolo, però ha lo stesso tipo di impostazione, quindi avrà un gain, che è questo rotativo per i volumi, come se fossero i fader del mio banco, a questi mute, che sono l'on-off, i switch del mio canale, che servono chiaramente nel dub per fare i cutting, e quindi aprire o chiudere le tracce, e poi ho dei controlli rotativi, che sono questi qui, che sono messi come se fossero delle barre di ausiliari, cioè quegli effetti in cui entra un effetto e attraverso l'apertura o la chiusura della mandata noi lo possiamo effettare, quindi mettere l'eco, per dire sulla voce, mettere l'eco sul reading, mettere l'eco sul processare, la batteria, eccetera, eccetera, esattamente come succede su un banco analogico. Ritornando alla questione della produzione, che è anche una cosa interessante, il digitale ci ha dato delle possibilità incredibili dal punto di vista della produzione, perché noi possiamo intervenire in maniera assolutamente millimetrica su qualsiasi tipo di segnale che noi veniamo ad immagazzinare. Questo succede e ci dà i maggiori risultati, chiaramente, nel trattamento delle parti ritmiche, chiaramente quando si fa lo standard di registrazione attuale di circa una ventina di anni è, come diciamo, a tracce separate. Quindi difficilmente i membri di una band suonano insieme. Si può anche fare, io a volte lo faccio fare per avere un sound di insieme, magari per aiutare, ad esempio, il batterista o il bassista a non suonare da soli, specialmente il batterista sul click, che perde un po' di feeling a sentirsi tutto il tempo e a suonare in questo modo. Allora magari si fa una take dove si prendono tutti gli strumenti, con una voce guida, e poi si inizia a rifare tutto da capo. Questa cosa, chiaramente, sincroni con un BPM, cioè ci vuole un click, noi partiamo su una griglia, questo si faceva comunque anche sull'analogico, per essere comunque precisi, si poteva fare, poi ci sono tantissime cose che non sono fatte in questo modo, però c'è tutto un tipo di feeling a seconda del fatto che venga registrato in un modo o nell'altro. e chiaramente questi nuovi software ci danno delle grandi possibilità di intervenire anche dal punto di vista ritmico, ad esempio Logic ha una funzione che si chiama FlexTime, per la quale comunque si riescono a correggere, si vanno a prendere i picchi praticamente dei transienti, cioè le forme d'onda che vengono incise dalla cassa da rullante, praticamente, e in un determinato modo, cioè calcolandoli, si spostano in maniera armonica, si sposta tutto l'andamento della batteria finché comunque si può ottenere un timing veramente perfetto. sta poi un po' alla capacità del produttore, secondo me, far suonare, dal mio punto di vista è sempre meglio far suonare bene lo strumento, piuttosto che andare a fare delle pesanti correzioni digitali sullo strumento stesso, però ha mali estremi, estremi rimedi, una volta non esisteva, adesso esiste, se proprio c'è bisogno, lo si fa. La stessa cosa funziona per le voci, perché abbiamo dei software potentissimi di correzione comunque vocale, quindi diciamo che anche il cantante più stonato del mondo può diventare quasi perfetto, usando i vari Melodyne e compagnia bella, insomma, pitch correct che ci sono in funzione. Per quanto riguarda l'effettistica, che è una cosa che ci piace molto dal punto di vista del DAB, anche lì siamo molto, molto, molto facilitati, perché l'effettistica è praticamente infinita. Cioè, io penso di non conoscere tutti i processori di suono che ho, tra questo computer e quello che uso in studio, perché sono talmente tanti, discarico e li prendo, eccetera, eccetera, e molto spesso non li guardo. Quindi il mio consiglio da questo punto di vista è quello di selezionare, di fare un po' quel discorso che facevo prima sugli effetti reali. Che cosa serve al mio suono? Non mi servono diecimila cose, me ne servono dieci e devo saperle usare bene. Questo è il consiglio per chi vuole produrre musica attraverso i software, attraverso l'elettronica. Scegliere una propria macchina, scegliere una serie di macchine che possono essere interessanti e lavorare su queste macchine. Cercare di tirare fuori il meglio, come i primi pionieri tiravano fuori tutto da questo effetto, tutto dallo space echo, sostanzialmente. E ci sono tantissime cose che si possono fare, contando che ogni macchina che abbiamo è esponenziale rispetto alla possibilità di un echo, cioè ogni macchina ci dà delle possibilità incredibili. Quindi, secondo me, ognuno deve scegliere i propri strumenti, lavorare nel marasma del digitale è una cosa che va fatta con molto gusto, come dicevo prima, e parte proprio dalla scelta dello strumento. È come scegliere se suonare la chitarra o se suonare il basso, detto in maniera, estremizzando il concetto. Dopodiché le possibilità sono praticamente infinite e, come dicevamo, sono quelle che... Scusate, ma... E il digitale ce ne dà tantissime. Allora, io praticamente, qui, pensando ai... Beh, ditemi intanto se sono stato chiaro, se c'è qualcosa che volete approfondire a livello tecnico, io vi dico subito. Allora, qui, adesso intanto vediamo... Prima ho cablato, non ho potuto neanche vedere se funziona, quindi facciamo un piccolo check per vedere come siamo messi. Ecco, il mio set d'hub, perché anche di questo dobbiamo parlare, è un set che è molto, molto, molto simile. Io uso l'analogico come se fosse un nastro, sostanzialmente. Quindi ho delle track separate dove ho... Non uso la tecnica sound system che avete visto ieri, che è basata appunto sul pre, sul crossover, quindi dei tagli e dei cutting fatti a frequenze, però su una situazione già missata, cioè left to right. Io uso proprio una situazione da studio, come se mi sassi ogni volta in maniera totalmente diversa. Quindi ho, diciamo, la situazione globale delle tracce che scorrono. Chiaramente ho fatto dei gruppi, perché se no avrei dovuto portarmi in un gruppo, un mixer enorme. Ho fatto otto gruppi dove sono riassunte le cose fondamentali del messaggio. Quindi la cassa, il rullante, il charleston, un groove generale, dove ci possono essere dei groove che viaggiano insieme alla batteria, una traccia di basso, naturalmente, una traccia di rhythm, quindi levare o similaria, una traccia di synth e vari strumenti, che possono anche essere le chitarre o i fiati, e una traccia di voce, in tutta otto tracce, che corrispondono ai miei otto canali. In questo modo, quando io vado ad aprire, ho il messaggio completamente da fare, che ricostruisco ogni volta che faccio una riproposizione live del mio live set. Lo stesso tipo di tecnica la uso quando sono in gruppo, diciamo, con the dub sync, dove intervengono due musicisti. Quindi ciò che io faccio è semplicemente togliere la traccia del basso, perché il basso viene suonato del vivo, e togliere la traccia di groove che contiene le percussioni, perché le percussioni vengono suonate del vivo. In questo modo, però, è molto interessante creare un'interazione di volta in volta tra quello che fanno le macchine, e faccio io come dubbing e overdubbing, e quello che fanno i musicisti veri, diciamo, in questo caso, Paolo Baldini al basso e Papanico alle percussioni. La cosa bella è che il dub e ho sentito dei paragoni un po' jazzistici, da un punto di vista, e in effetti il dub con il jazz ha comunque l'improvvisazione e il trait d'union che può accomunare questi generi che in realtà sono molto diversi, perché uno è estremamente tecnico musicalmente e l'altro è estremamente povero invece a livello di tecnica musicale, ma hanno danno se sono fatti in maniera corretta ed intensa danno una grande possibilità di improvvisazione. Infatti, molto spesso il fermarsi e creare dei cosiddetti loop di battute che possono anche essere otto, sedici battute dà la possibilità poi di fare i vari cutting e di rifare completamente la struttura di un brano. Quindi molto spesso io lavoro a strati, no? Ho una track che funziona e che va da un punto A ad un punto B che può essere la mia track di cinque minuti completamente con il suo fluire il suo fluire e la sua struttura diciamo da disco messa quella che abbiamo progettato e poi ho dei momenti invece di sovrapposizione totale di tutte le tracce che se li apriamo tutti insieme fanno schifo perché c'è tutto tutto quanto cioè io ho tutti gli elementi e in quel modo lì ho tutti gli elementi come se fossero gli ingredienti e quando vado a suonare dal vivo cucino il mio piatto in diretta come se fosse uno chef ho la cipolla la carota la carne e tutto quanto le spezie e le arricchisco per farvi capire quello che vi sto dicendo adesso mando uno di questi loop e vediamo se funziona ecco mi dai un po' di volume per favore solo ecco anche solo alla parte infatti sentite che qua ho la cassa rullante charleston groove basso ritmi ho la chitarra in questo punto qua voce ritorniamo da capo groove quindi abbiamo detto che possiamo usare degli effetti esattamente come lo farei nell'analogico ad esempio qua ho un phaser con una ripetizione che io ho programmato naturalmente c'è un barra su tutti quanti sotto degli altri effetti un eco ping pong un eco stretto e quindi posso iniziare ad esempio finisco gli effetti qui ho il tipico ora lo doso perché è un po' alto do il tempo doso la ripetizione e posso iniziare a fare la mia adapt version praticamente praticamente secondo me è ci sono le piacette Gatti Raddoppio la ritmica Nesco le voci Con dei delay Asciugo E cambio completamente Asciugo e mi sposto su un altro pezzo e mi sposto Gli effetti specificamente sono dei tours del programma che tu comandi col controller? Sì A parte il Roland Allora, gli effetti si possono usare in due modi sostanzialmente Gli effetti si possono usare Possono essere gli effetti, quelli che io chiamo veri Cioè quelli che hanno un hardware Che chiaramente devono essere, con una situazione del genere Devono essere codificati due volte Perché devono avere una conversione Siccome entrano tutti nella scheda L'unico device che io ho è questa scheda Quindi quelli finti non c'è problema Perché sono dei plug-in che io metto in barra Non so se sono troppo tecnico Metto nel mixer come se fosse un mixer Esattamente come se fosse un mixer analogico Cioè i plug-in fanno la parte dei vecchi effetti separati Ma sono plug-in del programma Esattamente Quindi si aprono in maniera estremamente tradizionale Con le mandate dell'effetto Però su un mixer analogico Praticamente di solito tutti gli effetti sono veri Questo è esattamente come se fosse un mixer analogico Molti altri usano il controller in una maniera diversa Cioè si può usare per fare Dal momento che questi knob qua sono tutti assegnabili E tu fai, gli dici a Logic con una funzione che si chiama Learn Gli dici di imparare, tocchi praticamente E tu te lo configuri come vuoi Quindi se chiaramente vuoi avere dei filtri O vuoi avere dei sintetizzatori capri o chiudi Lo fai, io l'ho usato come alla vecchia Come se fosse un mixer analogico E quindi gli altri effetti devono entrare nella scheda audio E devono essere convertiti in entrata e convertiti in uscita Perché questi sono degli effetti veri Avrebbero bisogno del mixer con il loro out Invece in questo modo li facciamo entrare qua dentro E li facciamo uscire ed entrare Praticamente per avere la possibilità di controllarli Tecnicamente ne possiamo mettere quante sono le entrate della scheda audio In questo caso questa scheda audio ha solo due entrate Quindi possiamo usare soltanto due effetti veri analogici Nel caso delle schede audio più usate Tipo la Motu o cose del genere Che hanno otto in Noi possiamo Gli in si trasformano in in e out Io sto sfruttando solo uno Perché per comodità Per comodità sto usando quelli Questo è sostanzialmente il mio set da viaggio È quello che deve entrare nel famoso formato Ryanair Se non mi fanno volare E quindi diciamo che è pienissima Non c'entrava più un altro effetto Se non l'avrei portato È chiaro che la scheda è molto importante Ad esempio questa è una scheda che va bene per fare live Però non è una scheda audio che ha una qualità professionale Che si può usare in studio Insomma si possono fare dei lavori, dei provini eccetera eccetera Però chiaramente ci sono schede più interessanti Le schede che io uso in studio attualmente sono delle Apogee Che sono delle schede molto belle Che hanno un tipo di conversione più Perché anche lì Se si vuole usare il Come faccio io Un bilanciamento tra il digitale e l'analogico Chiaramente servono delle schede Che convertano da analogico a digitale E successivamente da digitale in analogico Che siano il più bello possibile Se si fa tutto in digitale Questo teoricamente è meno necessario Però comunque alla fine se dovete registrare una scheda audio Bisogna averla Perché la voce la devi convertire Se devi fare un basso o una chitarra la devi convertire Tutto il resto lo puoi fare con i software Però fino a quel punto lì non ci siamo arrivati Fatemi Ditemi voi qualcosa così andiamo avanti Cioè ditemi voi che cosa volete Che tipo di argomentazione Che tipo di domande avete Su questo panorama Cioè sul dub Produzione E perché no Anche magari possiamo parlare Di prodotti musicali Questa era la terza parte Ma volevo stare un attimo Su questo pezzo diciamo Quindi se avete qualcosa Credi che interagiste Diciamo io sono Sono un musicista Sono il basso Ho fatto una formazione reggae Ruz Mi sono appassionato al dub E per esempio Questo è tutto un mondo totalmente nuovo La produzione Il mixaggio E tutto quello che ne comporta Quindi diciamo Anche la domanda che ha fatto prima Il signore Mi serviva per capire un po' Come gli effetti entravano E venivano inseriti In determinati canali Diciamo non so più che Non so che domanda specifica fare Però diciamo tutto quello che viene detto In maniera basilare E di conoscenza Per chissà un giorno farò il Non produttore Però nel mio piccolo Cercherò di fare qualcosa Ma io penso che Guarda io quando Ti posso fare l'esempio mio Perché io poi alla fine Non sono Non sono Sono un musicista Non sono un fonico Non ho mai fatto dei corsi da fono Da particolari Da fonico E Diciamo che Non conosco Così bene l'elettronica Ma amo dire che sono uno spipolatore Poi io ho uno stile abbastanza terroristico Nel mio tipo di musica Perché cerco di non Di prendere spunto da tante cose E molto spesso metterle insieme Non sono uno Un talebano Diciamo Non sono un ortodosso Rispetto a un genere musicale Ma cerco di Di apprendere E poi di fare Di fare musica Secondo la mia Il mio gusto Tornando a quello che Che dicevi La mia esperienza È piuttosto lunga Ed è partita Come ti dicevo Con gli analogici Quindi io Sono cresciuto Praticamente Con Tutta una serie di macchine In maniera molto Molto Naturale Ecco Quindi dalle macchine piccole Dalle 8 tracce Fino ad arrivare a 24 Partendo da un mixer A 16 canali Per arrivare al mio attuale Che ne ha 112 E poi non li userò mai tutti Cioè non mi è mai successo Di fare un messaggio Con tutti questi canali Comunque tu Come regola Pensa questo Cioè ogni pezzo Ogni pezzo Diciamo Della batteria Ogni strumento Sostanzialmente Quando viene registrato Ha una sua traccia Viene registrato In una traccia Da quella traccia Ritorna nel mixer E ha un suo canale Che è dotato Sostanzialmente Di equalizzatori Che ne vanno A formare il suono Partendo dai bassi I medi Gli acuti È Solitamente Un parametrico Che ti seleziona Che tipo di equalizzazione Vuoi dare Cioè Se tu vuoi Lavorare Sui 5.000 Lavori sui 5.000 E dai quel tipo di acuti Se vuoi andare più in su Vai sugli 8.000 E dai un incremento Cioè un mixer è fatto così Ha un gain Praticamente È una È una È una Campanatura Di 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 equalizzazione Sulla quale tu Agisci E formi il tuo suono Come devi formare il tuo suono Non lo ha stabilito Nessuno Lo stabiliscono Soltanto le tue orecchie Perché un produttore Ha un suono Piuttosto che un altro Perché le orecchie Di quel produttore Lì Non sono le orecchie Di un altro produttore Semplicemente Quando noi ascoltiamo Una cosa La stessa fonte Tu percepisci delle cose Io ne percepisco delle altre Questo è il bello Un po' Anche di Di questo mestiere Quindi A parte le regole Di buonsenso Che sono quelle Di non Fare una schifezza Insomma A livello di registrazione Non fare una serie Di clip digitali Perché Fanno schifo Se non si In una voce Non è bello A parte queste cose Non ci sono Delle regole fondamentali Con il mestiere Si acquisisce Un certo orecchio Che ti porta A fare Meno sbagli Perché sbagli Se ne fanno sempre Comunque E Molto spesso Magari in un messaggio Stai molto tempo A cercare di ottenere Un suono Che avresti Ipoteticamente In mente E non riesci Perché non riesci Magari smetti E dopo Dopo due giorni Riesci a Ripartendo A capire Che comunque Non era un bilanciamento E un po' Il bello del messaggio Che è sostanzialmente Quello analogico E che è sempre Un po' esoterico E in analogico Tu non mi sarai mai Un pezzo Nello stesso modo Perché Sul digitale Me la esse Ciao Se io fra tre anni Vengo a riprendere Questa cosa qua La trovo identica Invece Su un Su un banco analogico Ma neanche Neanche con le automazioni Perché una volta C'erano le automazioni Proprio del banco Che non funziona Non funziona così Perché ci sono troppi parametri Che cambiano Quindi Diciamo Se io vorrei Iniziare ad approcciarmi E vedere un po' Diciamo Scoprire un po' Questo mondo Sono un po' Più facilitato Col digitale In questo caso Diciamo Anche economicamente Diciamo Dovrei approcciarmi Per La prima volta Diciamo Con un portatile Ovviamente scheda audio Secondo me In questo caso Io come Inizierei A produrre I pezzi Nella mia sala Prova Per esempio Prendendo I vari musicisti Facendoli suonare Le loro parti E poi Iniziando a lavorarci In digitale Giusto per Vedere un po' Come funziona il tutto Per vedere Sì La cosa più difficile Sulla quale ti imbatterai Naturalmente Ci sono degli strumenti Che obiettivamente Sono un po' Difficoltosi da registrare La batteria È uno di questi Perché La batteria È un po' Complicata da registrare Perché Ad esempio Ci sono Tanti microfoni Bisognerebbe Possedere I microfoni Giusti Perché Ci sono dei microfoni Che sono adatti Per fare la cassa Come ci sono Dei microfoni Che sono adatti Per fare il rullante Il charleston I piatti Che sono proprio Dei microfoni Diversi Mentre usi Dei dinamici Solitamente Per fare I pezzi Della batteria Cioè quelli che hanno Più impatto Usi dei condensatori Per fare l'ambiente E il parco Microfoni È una cosa Abbastanza costosa Però sì Sostanzialmente Sì Se inizi Anche lì Io inizio Quando ho iniziato Chiaramente Non avevo le possibilità E non avevo I microfoni Che ho attualmente Comunque sia Io parlavo sempre Di prodotto Che poi rimaneva In casa Senza che poi Doveva uscire Fuori Per iniziare Proprio ad approcciarmi Anche se sarebbe Le prime volte Sarà una schifezza Scusate Poi farai Ti renderei conto Che dopo Una serie di schifezze Comincerei a fare Una cosa Che sarà Un po' meno Una schifezza E poi da lì Parti Perché è questione Anche di manualità E di capacità E poi L'importante Si va anche Per tentativi Perché comunque Poi ti ritrovi Bisogna anche Ad esempio Fare una batteria Qua dentro È ben difficile Perché comunque Una volta del genere Super riverberante In pietra Comunque Ci vuole anche Un ambiente Se tu mi vai a fare Una batteria In una chiesa Non ci siamo È difficile Che ti suoni bene Cioè bisogna un po' Sono tante cose Tanti parametri La registrazione Degli strumenti veri Implica Una serie di fattori Che comunque Sono Sono importanti Sono importanti Specialmente Oggi Dove le registrazioni Sono sempre più Dinamiche Quindi Sono sempre più Alte Da un punto di vista È chiaro che Registrare Come Facevano Negli anni Sessanta Negli anni Settanta Con un microfono Teoricamente Era più semplice Anche lì dovevano Stabilire Comunque Tutta una serie Di criteri acustici Perché Lì lo facevano Proprio fisicamente Con la distanza Siccome il punto Focale Era un microfono Diciamo che la batteria Che suonava più forte Si metteva più lontana E chi ci cantava Ci cantava vicino E gli strumenti A fiato Che avevano magari Un grosso E quindi si facevano Delle prove Di bilanciamento In studio Che però Erano assolutamente Basate Sulla distanza Fisica Dalla sorgente L'altra cosa È che però Gli studi Solitamente Erano trattati bene Perché erano Acusticamente Ben fatti Se tu vai a vedere I grandi studi Degli anni Settanta Oppure le sale Di ripresa Che sono magari Anche quelle Della RAI O C'è uno studio Bellissimo Ad esempio A Milano Che È quello Di Mauro Pagani Che era Che ha questa sala Ampissima Dove si registravano Le orchestre E pur essendo enorme Ha un'acustica Fantastica Proprio perché Venivano fatte Delle riprese Del genere Quindi sai Ci sono Tantissimi parametri E non è Non è semplice Dovrai Se Se vorrai Fare questo tipo Di Di cosa Dovrai Dovrai Fare Dei tentativi E anche Procurarti Degli strumenti Adatti Parlando sempre Di strumenti veri Tipo le batterie Qual è la Sua opinione Delle Delle nuove Librerie di software Tipo EZDAM Le librerie Di Dramset Ci sono Dei software Che clonano bene Comunque Comunque Diciamo che Le batterie Sono sempre state Una cosa Molto Molto Interessante E sono stati Oggetto di clonazione Da un sacco di tempo Ricordiamo proprio Le prime batterie Elettroniche Di cui ad esempio La Roland 808 Ha fatto scuola Perché poi è diventata La batteria Dell'House E della Tecno Successivamente E molti Molti software Anche Attuali Comunque Le riclonano A loro volta Ed erano Le batterie Erano batterie fisiche Grosse Grosse così Con i vari pulsanti Al posto Del E clonavano Di solito Due o tre tipi di cassa Due rullanti Un paio di ciare E strani Eccetera eccetera Da quando è arrivato E' stato introdotto Il campionatore Che è stata un'altra Un'altra grande Grande Invenzione Tecnologica Che ha cambiato molto La musica Diciamo Degli inizio Degli anni 90 Cioè pre-digitale D'altronde Il digitale E' esattamente Quello che faceva Il campionatore Però lo fa Con uno spazio Di memoria Molto più grosso Da quando è arrivato Il campionatore Si è iniziati A campionare Le batterie Questi software Di nuova generazione Tipesi Drummer Eccetera eccetera Che io uso anche Sono basati Sui Campionamenti Più sintesi No? Cioè Quindi hai Delle batterie Vere Che sono Campionate Quindi c'è un buon Suono di partenza Alla quale tu puoi aggiungere Degli ambienti Eccetera eccetera E poi puoi fare La tua track Secondo me Funzionano bene Il punto Il punto sulle batterie elettroniche Sta molto nella programmazione Cioè Se tu sei Un po' batterista Le programmi In maniera Verosimile Se Non sei un batterista Le programmi Di solito In maniera Meno verosimile Il che Poi può funzionare Cioè dipende Perché Che cosa vuoi fare Perché se tu vuoi Ricreare Il drumming Di John Bonham Vedendo La tua Miglietta Chiaramente Ti puoi avvicinare Con questi software Cioè ci sono anche Dei bei cassoni Belli grossi Cioè ci sono Delle cose del genere Però la devi Devi studiarti Il batterista Che vuoi cronare E devi Devi programmare Le cose che lui Suonava realmente Invece Nella musica elettronica Ad esempio C'è un uso Completamente Completamente Diverso Cioè Completamente Da un'altra parte Cioè la batteria elettronica Non viene programmata Ma Non pensando A un batterista Cioè Pensando A dei pattern Che siano elettronici E quindi In un certo senso È più facile Perché tu Puoi fare Quello che vuoi A seconda Del tuo genere Chiaro che se c'è Una batteria Con una cassa Che viaggia a 180 bpm In 4 Cioè E fa i gabber Non te ne frega niente Di cronare Il drumming Di un batterista E quindi È più semplice Perché quel genere lì Ti dice Che devi fare così E tu lo fai Ed è una cosa Relativamente semplice Invece Far finta Che ci sia un batterista È più difficile Ora Io faccio un'altra cosa Di solito Con le batterie Con le batterie Io sono un grande Faccio i puzzle Mi sono fatto In questi anni Un bel database Di batteristi veri Che suonano Determinati il groove Passaggi Eccetera eccetera E quando mi serve Una batteria Vado A fare taglia e cuci Di questi batteristi Così per le percussioni Per tutti gli strumenti veri Invece di programmare Che sia sempre Un po' di finto Mi sono Mi sono Mi sono preso Dei groove Di batteria E faccio Tra l'altro Queste cose Sono facilmente disponibili Perché ci sono Un sacco di collection Di cd Eccetera eccetera Fatti dal batterista Piuttosto che un altro Ce n'è uno interessantissimo Fatto per logic Che è bellissimo Reg Adesso Non ce l'ho qua Perché Non mi ricordo più Come si chiama Però è una track di logic Fatta con un batterista Con il sincronismo Praticamente Che segue Anche Emessa In sync E segue esattamente I movimenti di bpm Del batterista Quindi se il batterista È tutto naturale Magari comincia a 130 E finisce a 129 Ma in certi momenti Va a 128 Però il sincronismo Che lo segue Ti fa sì Che se tu fai Delle cose midi Comunque programmate Sopra Seguano esattamente La track È molto interessante Quindi secondo me Quando si vuole fare Si vuole fare Si vuole fare Delle batterie È meglio Però Chiaramente È una roba Che anche lì Arriva Quando hai La disponibilità Di avere Del materiale Magari preso In anni di lavoro Come ho fatto io O se no Vai un po' Saccheggiare In giro A proposito Del suono Del basso Ideale Nel regge Per esempio Con i dub sync Cioè Voi Che tecnica Di ripresa Usate O meglio Come fa A suonare Così pieno Un basso Un basso reale E come fa Ad incastrarsi Così Sono un bravissimo Fonico No Allora La tecnica Di ripresa Del basso Sostanzialmente È abbastanza Semplice Quella che consiglio Io È Tecnica Microfonica E linea Quindi Lo si prende Con un microfono Da basso Che sarebbe Uno di quei microfoni Che di solito Vengono usati Per la cassa Della batteria Tipo La KG O il beta Lo Shure Un microfono dinamico Comunque E poi si prende La linea La linea L'uscita diretta Dall'amplificatore Chiaramente L'amplificatore Beh L'amplificatore Il must Per il regge Rimane l'ampeg Comunque Che è molto pulito Ha delle belle basse Profonde Poi Lì puoi usare Dei E' anche importante La compressione La compressione che cosa fa? Ti dà Il segnale Molto pieno Però ti limita i picchi Così Invece di avere Un file Piccolino Che poi magari ha Dei picchi grossi Quando vai sulle note Così Questo te lo comprime E questo fa tanto Nel 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 Io di solito uso Una compressione Uso già una compressione In partenza In registrazione Non Esasperata E valvolare Tipo con un TubeTech Che è un bellissimo Compressore Però costa un sacco di soldi E poi Invece Personalmente Invece Ricomprimo Poi il messaggio Con un altro Compressore Non più valvolare Ma molto Bastardo Che è il Distressor Di Empirical Labs Che è molto È un compressore Che non è solo Non solo schiaccia Ma ti dà Un Ti dà un sound Molto particolare Molto bello Da usare Anche sulle voci Molto bello Da usare Esasperato Perché ha Ti dà La distorsione Su alcune armoniche Praticamente Quindi è una distorsione Che non è che percepisci Come Distorsione vera e propria Ma è una distorsione Che ti dona Delle armoniche E ti dà Un sound Un sound Particolare Un'altra cosa Che facciamo Con Dub Sync Comunque È quello Di doppiare i bassi Cioè C'è un basso vero Che suona Ma c'è anche Un basso finto Che lo doppia Quindi possiamo Scendere Molto più in basso Nell'equalizzazione Nell'EQ Perché abbiamo I sub Che vengono dati Dalla forma D'onda sinusoidale Della Della programmazione Elettronica Chiaramente Per fare questa cosa Bisogna fare un bel lavoro Di editing Perché il basso suonato Deve essere Perfetto E quindi Devi andare Se no poi Le due Le due onde Vanno Cozzano Cioè vanno Controfase E invece di avere Un suono pieno C'è un suono Che non Che non va bene Insomma Cioè che non è Non è più importante Questo nella produzione Ci sono un sacco Di stratagemmi Che vengono usati Ad esempio Quando sentite Una bella cassa Della batteria Ritornando alla domanda Di prima Una bella cassa Della batteria Solitamente E il risultato Della dizione Magari di 4 o 5 Casse diverse Io non arrivo A esasperare Così tanto Però due o tre Casse insieme Le metto Quindi Magari Hai la parte E la dividi Un po' per frequenze Cioè vai a prendere Una cassa molto grossa Che sia bella Rotonda sotto Gli togli il click Magari il click Glielo fai fare Da un'altra cassa Che sia bella Precisa Le sovrapponi Sempre Anche facendo questo Specialmente Se questo viene fatto In addizione A una batteria vera Bisogna fare attenzione Però c'è ad esempio Quasi tutti i software Hanno una conversione Da audio a midi Quindi Ti prendono i transienti E te lo tramutano in midi E poi metti un instrument Che ti segua Quella 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 cassa lì E quindi Vai a fare una media E di solito sono sincrone Se ci sono dei momenti In cui non Non Vanno un po' fuori Vai di programmazione Di cesello Tagli Le metti insieme E queste sono Sono situazioni Di produzione Già Abbastanza Abbastanza avanzate Anche perché Presuppongono Un certo Sì Praticamente Questo alla fine Cioè Un certo tipo Di impostazione Di impostazione E quindi anche Un po' di tempo Da perderci Chiaro che se Arriva Una band In studio Che mi dice Io devo fare sei pezzi E ho sei giorni Non è che Non è che possiamo Proprio lavorare Di cesello In una maniera Pazzesca Perché c'è appena Il tempo Per registrare Le cose fondamentali E missare Se tu Invece hai Un tempo Cioè Almeno un mese Per fare Un album Ecco Cioè Devi comunque Lavorare tanto E andare E andare veloce Però Puoi già Stare lì A vedere Diverse cose Io Dico che Cioè Per realizzare In studio Un album Di dodici pezzi Ci vuole E fare una produzione Non dico Una registrazione Perché la registrazione È molto diversa La registrazione Io ti apro le tracce Tu fai quello che vuoi Io Poi Misso È molto semplice La produzione Significa Star dietro Comunque Al gruppo Significa dire Questo pezzo Funziona Però Pensiamo Come potrebbe Funzionare meglio Quindi Perché Questa strofa Non funziona bene Perché Non porta bene Non sfocia Magari manca Una parte strumentale Magari Ci vuole Un altro Arrangimento Il testo Siamo sicuri Che funzioni bene Cioè Produrre un disco Dal mio punto di vista Significa occuparmi Non soltanto Della registrazione E della Del catturare Il sound O di creare il sound Ma anche di creare Gli arrangiamenti E la musica Perché io Sono di un'opinione Che il suono Non lo fanno Le macchine Il bel mixer Cioè Solo in parte Viene fatto Dalle belle macchine Dei compressori Eccetera Ma il bel suono Il suono Viene fatto Dall'incastro musicale Che si propone Quando l'incastro musicale È interessante Funziona bene Le parti musicali Sono ben amalgamate Automaticamente Il suono È più bello Quindi è una situazione Di arrangiamento E di Quasi di direzione Orchestrale Volendo Perché poi Una band Di fatto Una piccola orchestra Una band Ad esempio Come la nostra Come gli Africa United Dove ci sono nove elementi Se tutti e nove Suonassero Dall'inizio Alla fine Sarebbe uno schifo Naturalmente Bisogna Dosare molto bene I vari Interventi Poi nel reggae Ci sono proprio Anche un po' Di 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 Passaggi obbligati Che fanno bello Il suono Ad esempio Vi dico una roba Molto semplice Il basso Il basso Deve andare A coprire Delle frequenze Che noi Abbiamo Diciamo Basse Deve Esasperarsi Un po' Intorno ai 60 Hz Che è una cosa Che negli altri Negli altri generi C'è poco No Però Per dare la punta Al basso Ci vuole La chitarra Cosiddetta Walking Cioè La chitarra Che va A doppiare Tutte le parti Del basso Il basso Da solo Non avrebbe Mordente Se non ci fosse Una chitarra Che lo doppia Sempre Sulle basse Insieme Dei due suoni Poi passata Magari Ad esempio Nella riverbero Di uno space echo Che è proprio Il Cosa Va bene Il jang Cioè Il rhythm Comunque Alla marley Cioè Bellissimo Pianoforte Leggermente destra Chitarra Leggermente sinistra In modo che Fai uno stereo E hai Quella Quella Bella entrata Il pianoforte Morbido Che ti dà Il Deng Deng E la chitarra Che ti dà Ciac Giac Quello Sono Proprio Le cose Le cose Fondamentali L'equalizzazione Del charleston Poi chiaramente Noi stiamo parlando Di un genere Che comunque Ha Delle tipologie Di sound Che sono Che sono molto Particolari E molto Esasperate Molto spesso Perché Comunque Il charleston Ad esempio Che dà Comunque Il rimbalzo Nel reggae È importantissimo E da Difficilmente Viene missato A quel livello In un altro Tipo di produzione Il basso Ha delle basse Esasperate È un genere Particolare Che va studiato E comunque Non tutti Ad esempio Sono in grado Di missarlo Se voi andate Da un fonico Che non ha mai Missato una roba Reggae Non ve la misserà mai Perché voi potete Continuare a dirgli E fai così E fai così Ma lui non lo farà mai Perché sente I livelli Come se fossero sbagliati E perché Non è abituato Se uno fa Specialmente in Italia Poi ancora Ancora peggio Perché in Italia Si è molto Ottusi Comunque E si è molto ignoranti Ancora A livello A livello musicale Quindi Se tu vai da un fonico Abituato a fare il pop Quando gli chiedi Gli chiedi Di enfatizzare In determinate frequenze Ti chiede Se sei matto Dice che va Che va tutto in distorsione Non è vero Assolutamente Cioè bisogna farlo Però con Con cognizione E quindi Però se uno Non c'è Se uno non le sente Certe cose E ritorniamo al discorso Di prima Cioè Io non sento Quello che senti tu E quindi Ognuno Ha un suono particolare Questo è un po' Il bello Ma ha colpito Questo fatto Del basso Dei Dubsync Che ha questo Lavoro così minuzioso Che però È un basso Che ritorna live Dal vivo Quindi dal vivo Tu hai Gli stessi effetti Che fanno Quello che succede In studio Pari pari Io Sì anche dal vivo Abbiamo delle sequenze Che doppiano i bassi Anche se dal vivo Chiaramente la cosa Viene un po' Un po' mitigata Però io Ho una traccia Che doppia Quasi tutti i bassi Di Paolo E a volte E in più Vabbè Dal vivo usiamo L'opzione pedaliera Quindi lui entra Con delle Sub basse A volte Che genera Live Perché chiaramente Poi live Ci possono essere Tra una linea Di sequencer Che comunque va dritta E come suona lui Ci possono essere Un po' di discrepanze Se invece lo facciamo Attraverso una pedaliera Abbiamo L'opzione rinforzo Senza Senza avere Il cosiddetto Flem Che sulle basse È sempre un po' Sgrade Cioè È piuttosto sgradevole Perché genera poi Anche degli effetti Di controfase Quindi di annullamento Del suono stesso Poi chiaramente Nel genere Di cui parliamo È tutto molto particolare È tutto molto Sfasato Ad esempio Un sound Come quello Che c'era ieri O come I sound Che vengono Sound autocostruiti Se Vengono pensati Nell'ottica Di un concerto Sono completamente Sballati Rispetto Al range Di frequenze Che propongono Sono fatti Per avere Una situazione Da crash Una situazione Nella quale Tu hai Una situazione Frontale Dove sei Aggredito Dalle basse E comunque Stai lì dentro Stai accerchiato Dalle casse Invece Ad esempio È una concezione Piuttosto Peuttosto vecchia Di impianto Mentre gli impianti Attuali Che vengono usati Per Per i concerti Diciamo Normali Anche per i concerti Reggae Comunque concerti Fatti con le band Sono fatti Ormai Sono studiati In una maniera diversa Cioè Invece di Aggredirti frontalmente E poi Dopo dieci metri Il suono decade Sono fatti Per coprire Ormai Un range Molto Molto Lontano Infatti si dice Che i nuovi tipi I cosiddetti Line array Che sono quelli Montati Così arrivano Molto Molto Lontano Arrivano Ancora 20-30 metri Oltre Oltre il mixer Ad esempio Proprio al Sunsplash A Benicassim C'è un impianto Bellissimo Che è il J Che è uno dei migliori Impianti Usati Con Mi sembra Non so se sono 16 o 24 Su 24 E Riesce a coprire Un'area Che è veramente Enorme Una volta Quando Quando si era Ad Osoppo Che c'era C'era un impianto Invece Di vecchio stampo Arrivava Proprio A fatica Al mixer Quando c'era Tanta gente Diciamo che dopo il mixer Non si sentiva più Quindi hai Le prime file Che vengono Dove ti spacchi le orecchie Praticamente E poi non si sente più niente Invece I nuovi impianti Sono basati Su Questo tipo di 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 suono Ecco Grazie Sempre giù E Di Sono basati Sulla Sulla teoria Di far sentire bene Tutti Allo stesso modo E se sono ben tarati Ci riescono Poi Lì dipende molto Dalla bravura Del Dell'uomo Del PA Appunto Del PA Come Come riesce a tarare Poi ci sono dei software Ormai Cioè tutto elettronico Quindi riescono proprio Addirittura In certi casi Cambiano l'impostazione Proprio Come si dice L'angolatura Dei Coni All'interno delle casse Per coprire In determinati modi Quindi questo è molto interessante Invece Il ruolo Dei Tradizione E il genere E inoltre La NERR sono anche Buoni da un punto di vista Del disturbo pubblico Cioè il fatto di poter Angolare poi i suoni Ti permette anche magari Un volume maggiore Però senza dover Comunque Puoi tenere Sì Puoi tenere una soglia Di DB inferiore Rispetto a quello A quello che è Che poi è problemannoso Ormai dei concerti live Perché ci sono Alcune zone in Italia Ad esempio a Milano Impossibile suonare dal vivo Perché ormai Cioè nelle zone Che ci sono Il carroponte Ad esempio Che è una bellissima zona Una bellissima hall Però devi tenere Cioè c'è il fonometro E sono rigorosi E ti scatta la multa Immediatamente Però ci sono dei livelli Passa una macchina E' più forte Del concerto Cioè non Si sta un po' esagerando Da questo punto di vista Io penso che Insomma Un po' più di Di buon senso Da una parte E dall'altra Aiuterebbe Ad avere Una maggiore E una migliore fruizione Del concerto live Che poi Per noi musicisti Alla fine E' rimasto anche L'unico modo Di portare avanti La nostra La nostra musica Perché Con il crollo Comunque totale Del supporto Che abbiamo Che è Comunque Anzi Che ormai Da alcuni anni C'è stato Dischi Non se ne vendono più E quindi per noi L'unica cosa E' fare il live Ora se anche il live Diventa così Difficoltoso E non lo so Ce ne staremo a casa Tutti quanti Infatti io non consiglio A nessuno Di fare il musicista Naturalmente Così c'è meno concorrenza Chi decide Gli standard Di suono Cioè Si va Si va A copiare Gli americani Gli inglesi Cioè Chi mi dice Che una cassa Possa di suonare Bum bum Deve suonare Zasta Per dire Allora Io dico una cosa Che gli italiani Sono molto bravi Cioè Per una volta Io penso Che gli italiani Dal punto di vista Della fonica Eccellano Perché Sono Ci sono dei tecnici Molto preparati In Italia Sia da studio Sia Sia Da live Gli standard Gli standard Ad esempio Per tutti gli anni 80 C'è stato No Degli anni 80 Tutti i 90 C'è stato uno standard Unico In tutti gli studi Che erano Delle casse L'NS10M Yamaha Tutti gli studi Avevano questo standard Quindi tutti i messaggi Venivano fatti In base In base All'ascolto Che usciva da quelle casse Però poi Come abbiamo detto Le orecchie sono state diverse Quindi gli standard Di fatto non ci sono Però E questo Non so perché C'è un aneddoto Però non lo ricordo bene Mi sembra che Un prodotto Lo sai tu? Sì sì L'aneddoto È famoso Che sono delle Erano delle casse Molto economiche Comprate sui giornali Online Oggi online All'epoca Quando ti mandavano Le riviste a casa Per fare degli acquisti Dalle marze da scopa Alle casse Per sentirci la musica E pare che Questo modello di cassa Yamaha Economico Che l'NS10 Poi è stata usata Non ricordo Precisamente Da quale Fonico Un camericano E mi sembra che fosse Poi hanno iniziato Insomma A usarle tutti Guarda Non mi viene Non mi viene In questo momento Però sì Conosco anche io Quest'aneddoto qua E comunque Queste furono standard Quindi Diciamo che Così Adesso uno standard Ad esempio Sulle casse da studio Non c'è Cioè Ognuno Usa Quello Che vuole Poi ad esempio Prima non si usavano i sub In studio Adesso si usano i sub Perché in effetti La percezione È diversa Tu mi molto spesso La fruizione Prima Ascoltavi attraverso lo stereo A casa avevi lo stereo Giradischi Adesso molto spesso Hai dei micro impianti Che hanno il sub Che sono quelli stessi Del computer Sì O tra questo dicevo anche Per esempio Nel messaggio delle voci Per dire Noi siamo abituati Gli anni 60 Gli anni 70 Ad avere La voce a 100 E poi Invece Nei messaggi Inglesi Americani Adesso si sta Sì però Non lo decide nessuno Ad esempio La concezione Dello stereo Negli anni 70 Era molto Esasperata Perché comunque Era una cosa Relativamente nuova E quindi Venivano fatti Grandi sperimentazioni Cioè Magari Anche negli anni 60 Le batterie Tutte da una parte E gli strumenti Messi spazialmente Da un'altra parte La voce Anche eccetera eccetera Diciamo che adesso La concezione fondamentale È quello di avere Una ritmica Sempre molto Molto presente La voce in centro Poi c'è un altro elemento Che comunque Sta caratterizzando Moltissimo Il La musica Una volta Si facevano i missaggi E il disco Era finito Ora Il missaggio Non è Ora c'è il mastering Che Voglio dire Sta raggiungendo Dei livelli Di pazzia Secondo me Perché Funziona così A ver Prima si faceva il mastering Ma io faccio Faccio una cosa Porto il mastering Left e right Che cosa succede Che si danno Come secondo me Va bene Che ci sia Però Si tolgono le frequenze Un po' più fastidiose Si alza Si alza Si alza Si alza Si alza Si alza Adesso ci sono dei file Che sono così Delle masse nere Così E non basta Adesso si fanno i missaggi Con gli stem Che cosa sono gli stem I mastering Separato Cioè Tu fai il missaggio E parti dal Dal Cassa rullante Cioè Fai la batteria Fai il basso Metti tutto insieme E poi lo rifai Lo rifai Perché agli stem Tu hai di nuovo Il basso La batteria Da una parte Il basso Da un'altra Gli strumenti E la voce Cioè quindi Hai sei tracce Rimessi questo Quindi il mio missaggio Non è servito a nulla Perché se lo rimasterizza Un tipo che C'ha un'altra concezione Lo cambia completamente Allora cosa serve Andiamo al mastering Chiamiamo mastering Quello che veniva fatto Che si chiamava missaggio E andiamo a fare quello Ed è l'unica cosa Che tira tantissimo Perché adesso Tutti vogliono fare Il mastering Tutti vogliono fare I mastering Ma esasperati così E gli unici studi Che guadagnano Sono quelli di mastering Perché Perché Intanto Che cosa succede Che uno si confeziona Le cose A casa Fa dei messaggi Molto spesso sommari E poi pensa Che con il mastering Va da tutto a posto Allora preferisce Spendere mille euro In un mastering Invece di spendere Mille euro In un messaggio Ed è sbagliatissimo Non è che tiro l'acqua A mio mulino Io faccio anche mastering Però non esiste Cioè Il buon messaggio È alla base del sound E dopo Fai questa cosa Quindi automaticamente Cioè Nell'ambiente musicale Stanno arrivando Degli standard Sempre diversi Comunque Se ti devo rispondere Alla fine In questo momento Lo standard Lo fanno i grandi studi Di mastering Che sono I tre o quattro Che ci sono Che sono i più gettonati C'è la scuola inglese E la scuola americana Quindi Si fa così Perché Diciamo che Ai produttori E quelli che missano È rimasto Il lavoro Il lavoro Sulla Sulla parte musicale Ma Sulla fonica Ormai fanno tutti gli altri Quindi Così Non mi so più i dischi Infatti La domanda che stavo per farti Era proprio questa Cioè Proprio il rapporto Che c'è tra mix e master Perché a un certo punto Il dubbio che viene Andando a mixare Un brano È proprio quello Dici Vabbè ma io Fino a che punto Posso spingermi Se poi comunque Io so che Nel momento in cui Porto il brano Per fare un master I livelli Frequenze Se si lavora Su left and right Distruggere Proprio più di tanto Non ce la fanno Il fatto che È innaturale Che È innaturale Che i pezzi suonino Così alti Prima di tutto Che bisogno c'è E poi È una cretinata Cioè Una volta I dischi In vinile Sono sempre prodotti Cioè Uno suona di meno Cosa fai? Alzi un po' il volume Uno suona di più Abbassi il volume Cioè È così semplice Come cosa È così naturale In modo che Tu hai il suono Che è stato concepito All'inizio Dal produttore E dalla band Invece Il fatto di alzare 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 E ha determinato Questa Questa rincorsa Continua Per la quale Molto spesso Per alzare Tanto È chiaro che Le compressioni Sono esasperate E ne fanno Certe dinamiche Che ci sono Infatti i dischi Una volta suonavano Molto meglio Anche perché La musica Aveva determinate Dinamiche Più rispettose Diciamo Della musicalità Stessa del brano Invece adesso Tutto Estremamente compatto Poi questa è la mia idea Altri pensano Esattamente il contrario Di questo No ma la cosa Molto interessante Da capire Per noi che facciamo Musica regga E che Per cui per noi Le frequenze Medio basse Le frequenze Bassissime Sono molto Basse Sono molto Importanti E proprio capire Cioè come si è evoluto Poi questa cosa Del mix Con i nuovi supporti Diciamo che possono essere iPhone E via di seguito Che tagliano Completamente Una certa frequenza E come ci si Rapporta tutto questo Oppure non ci si Molti dischi regga Non sono masterizzati Comunque Tantissimi Non sono stati masterizzati Cioè tutti i dischi Di professor Il mastering Non l'hanno mai visto Ad esempio Sa neanche cosa sia Cioè non sa neanche cosa sia Si lo sa Però cioè Non lo fanno Molti dischi Così Diciamo che comunque Nel regga Non la sento Questa Questa corsa Veramente Devastante Al mastering Si fanno Invece Le cose elettroniche Sono fortemente Cioè la dubstep Ha delle compressioni Devastanti Però quello è perché Comunque deve suonare Non ha dinamica È tutto schiacciato Deve suonare comunque In situazione di club Quindi funziona Tutto sommato Il regga Ne è abbastanza fuori Da questo Circuito Esasperato Io mi riferivo Proprio al fatto Che con i nuovi Le nuove tecnologie Tipo l'iPhone Per dire Cioè nuove Relativamente nuove Ecco Per noi che facciamo Un genere musicale Che è molto improntato Sulle basse frequenze E come ci si comporta Poi Quando si produce un disco Che si sa Che probabilmente andrà Non ci si comporta Semplicemente Si dice Insomma Vuoi ascoltare bene Questo disco Comprati uno stereo E questo è quanto O ascoltalo O ascoltalo In una situazione Si poi Vabbè No no Certo Però se Allora Cioè qui c'è Una questione Una questione Di Filosofica Di mezzo Che è questa Chi spende Un sacco di soldi Nelle macchine Musicale Nei compressori Microfoni E cose del genere È un demente Io sono un demente Perché Se io penso poi Alla fruizione Che giustamente Che giustamente Poi tu mi stai Sottolineando Dico ma chi me lo fa fare Io perché compro Un tube tech Che costa 3500 euro Un compressore Del genere Che poi La mia roba Viene ascoltata In questi autoparlanti Qui Se parti da questo discorso qua Non fai più nulla È chiaro Che si spera sempre Che nella massa Di persone Che ascoltano Cioè tu fai il prodotto Lo fai perché ti soddisfa Cioè noi facciamo Questo lavoro Alla fine Perché Perché sperimentiamo Con la musica Perché siamo contenti Di fare Questa musica Insomma Cioè Voglio dire A 50 anni So bene Che non diventerò mai ricco Come bono E quindi Continuo Continuo a fare questa cosa Perché sono contento Di farla E continuo A spendere i miei soldi Perché li ho sempre spesi In questo Cioè se li guadagno Io li ho sempre Rinvestiti In macchine Perché In macchine Per la musica Perché io comunque Tutti i giorni Quando sono a casa Alle nove Mi sveglio E vado a lavorare Nel mio studio Non faccio altro Ma sempre Proprio Perché Perché la mia Vita Quindi lo faccio Molto tranquillamente Ho smesso Di Ho smesso Di pormi Queste questioni Perché tutto sommato Alla fine Non sono Non c'è soluzione Sì Ti volevo chiedere una cosa E cambiando un po' L'argomento La tradizione Del dub Vuole che I dub master Siano dei non musicisti Tabby era un Tecnico elettronico Con grande orecchio Con grande intuizione Matt Professor Anche lui un tecnico elettronico Adrian Sherwood Non era neanche un tecnico Ma uno Un grande amante del reggae Che ha iniziato Do it yourself A fare le cose E impararle Ci sono i DJs Che rimixano Però Sono dei non musicisti Tu invece Hai un importante Background di musicista Hai studiato piano Per tanti anni Mi chiedevo Se Facendo poi il dub master Questa cosa Cioè com'è la prospettiva Di farlo da musicista Se a volte ti ha ostacolato Diciamo in termini di forma mentale O a volte ti ha Invece A volte hai Acquisito Da questa cosa qui Io faccio sempre Un paragone Un po' Altezzoso Tutto sommato Che è questo Secondo me Fare il dub master È la cosa più vicina Che io trovo Nella musica Cosiddetta pop Nell'accezione più Totale del termine A fare la direzione In orchestra Perché È uno spostare Delle masse sonore Fare il dub Alla fine Tu comunque Prendi Una versione Che è preesistente E cominci a Selezionarla Dinamicamente Come faccio Fai un cutting Sulle Sulle basse frequenze Poi metti Ed è un po' Ed è molto simile A quello che fa Il direttore Ciao Il direttore d'orchestra Che Tutto sommato Si trova A lavorare Con qualcosa Di scritto prima Perché Beethoven È Beethoven E non puoi cambiare Nemmeno una nota Però Il Beethoven Di Von Karajan È sempre stato È Il Beethoven Per eccellenza Non lo so Quindi Diciamo che Un direttore d'orchestra Ha dato La sua Particolare Interpretazione A un pezzo Che comunque C'era prima E questa Già È una Notevolissima Similitudine Poi Devo dire Che i direttori D'orchestra Hanno Tutta un'altra Conoscenza Della musica Rispetto A quello Che posso avere Io O immagino Abbiano avuto Questi Questi personaggi Di cui stiamo Stiamo parlando Che hanno Sempre avuto Un approccio Molto Empatico Molto Così Proprio Poi da Beh fisico Perché ci vogliono Le manopole I Fader E quindi A questo Tipo di Impostazione Chiaramente La direzione D'orchestra Presuppone Un lavoro E un lavoro Culturale Molto più Più tosto Però I caratteri Sono simili Ed è forse Quello Che ha Un po' Influenzato Il mio modo Di fare Io Spero di farlo In maniera Tra virgolette Molto Molto musicale Sempre Seguire molto La track Quindi avere Sempre anche Una concezione Dinamica Molto Molto presente Cioè avere I vuoti Pieni I vuoti Pieni In maniera Il più armonico Possibile E È quello Che cerco Di fare E poi Io sono Un musicista Molto Atipico Comunque Perché Vabbè Perché mi sono Diplomato Giovanissimo In pianforte A 18 anni Ero già Diplomato Non me ne fregava Più di tanto E quindi Ho smesso Completamente Perché era Un ambiente Che non mi piaceva Era un ambiente Che ho subito Sostituito In maniera Vorace Con Le mie Le mie Sperimentazioni Elettronico Dark Prima E Sempre portando avanti Gli Africa United Quindi anche Da lì Cioè Vedi che ci sono due mondi Apparentemente Molto lontani Però anche Adrian Sherwood Ad esempio Ha delle Ha avuto delle influenze Diciamo più elettroniche Comunque Nei suoi Nei suoi anni Ottanta Eccetera Eccetera Quindi Sai La musica Qua bisogna sempre Io lo cito sempre Molto Marley Perché secondo me E' una delle cose Che più interessanti E più concise Che ha detto Music is music La musica E musica Cioè Non c'è un Non ci sono questi gate Comunque Tra i generi Ci sono delle diversità Ma ascoltare Musica diversa Aiuta a fare meglio Il proprio genere musicale Io sono assolutamente Convinto di questo Fossilizzarsi E fare Come dicevamo prima I talebani In un genere In uno stile Per il quale comunque Intanto E' Molto 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 Limitante E limitativo Non puoi Dire Questo si fa così Perché c'è una regola E devo farlo così Le regole Sono fatte per essere infrante Se tu infrangi Quel tipo di regola E fai un'altra cosa Magari viene fuori Una roba molto bella Io ho avuto un periodo Tutto Tra il 94 Al 97 Che c'è Io non facevo Un suono pulito Ma manco se mi pagassero Facevo tutto distorto Distorto digitale Tra l'altro Quindi una distorsione Che viene considerata Schifosa Brutta A me piaceva E ci ho fatto Un intero album Su quel concetto lì Che è distorta diagnostica Ed è un album Che comunque Nel mio repertorio È un album Molto Molto considerato E attualmente Penso che sia Comunque L'album più bello Che ho fatto Come Madasky E Facevo Cioè È bello Quando Mi manca tanto Questo approccio Perché più vai avanti E più è difficile Perché più vai avanti E più tendi A Un po' A essere Un po' più formale E tutto sommato A Essere più accondiscendente Nei confronti Di quelle che sono Le cosiddette regole Perché ci sono Evidentemente Ci sono delle regole Anche nel suono Insomma Una cosa La devi fare Ultimamente Ci siamo molto Ghettizzati In questo I software Hanno avuto Una grossissima Una grossissima Colpa Perché Ci sono dei generi musicali Specialmente nell'elettronica E delle categorie Che neanche io conosco Troppo bene Però dove Se il suono Della cassa È di un tipo Non va bene Ma chi ha detto E quindi Hai Specialmente Nelle cose più tecniche Nelle varie Di ramazioni Se tu usi Un determinato Tipo di cassa Non appartieni A questa cosa qua Perché questo Va messo così E devi usare Solo Quello software Perché se non usi Massive Non c'è Il suono potente Di una roba Queste sono Delle cazzate Sono delle cazzate Assolute Proprio Quindi È brutto Trovarsi A Comunque A discutere di musica Che dovrebbe essere La cosa più libera E che sgorga In maniera così Più immediata Dal proprio Essere E invece In canalartelo In situazioni Così strette E così becere Nella loro Ortodossia Poi secondo me L'ortodossia È sempre Un po' È sempre Una limitazione Incredibile Dell'essere E quindi No Però Non è sempre facile Neanche combattere Contro i mulini a vento E fare il donkey shot Della situazione A volte dici Vabbè lo vuoi così Fallo Va bene Facciamo Sì una domanda Anche A Dave in realtà Tra i tanti citati oggi Secondo me Bill Oswell Non è stato citato Quindi volevo sapere Il tuo parere Su un artista Di quel livello Che non è Non è un vero Dubmaster È un musicista È un produttore Ha usato il dub Per Remixare Penso Il massimo Il massimo della musica È l'unico che Ufficialmente Ha remixato Marley E Miles Davis Insomma Quindi Penso sia sufficiente Come Come curriculum Playing it conventionally Bill Oswell È completamente È completamente Diversa Tornando al discorso Sì Tutti I Molti Dubmaster Giamaicani Non avevano Nessuna Educazione Musicale Alcuni Magari Invece Erano anche Ottimi Musicisti Ma magari Sono personaggi Fossi un pelo Marginali Come engineers Come Sly Stewart Stephen Stewart Un engineer Di R.E.J. Probabilmente Sì Bill Oswell È un po' Un buon compromesso Sicuramente Un trade union Tra il fatto Di essere Un grande musicista E un Dubmaster Sì Sì È un po' È un po' È sicuramente Una concezione Non solo tecnica Ma Anche artistico Musicale Questo qua giù E E Quindi a me piace Cioè Mi piace proprio Per il fatto Che comunque Il discorso Che stavamo facendo Che comunque Certe cose Possono anche Essere prese Rivoltate al contrario E hanno La loro La loro essenza La loro forza Proprio per questo Sì Ritorno a quello Che tu Alla tua Introduzione Che qualsiasi cosa Può essere Labbata Certo Qualsiasi cosa Può essere Labbata Perché Dub È una tecnica In proposito Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande Avremo piacere Ad avere un altro assaggio Di questo contorno Serale Di Dub Magari Utilizzando anche Qualche Brano dei tuoi Che si allontana Leggermente Dalla Dub Che abbiamo ascoltato Prima Se ti va Sì Dal momento Che l'abbiamo Interrotta Sul più Bello Che cosa? No Ma va benissimo D'altronde Già ieri Ieri sera Ho fatto Che l'abbiamo Che los Che ieri Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.